Xbox sono stato trollato Xbox sono stato trollato Xbox sono stato trollato Allora, devi andare in retromarcia No, 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 vieni verso di me in retromarcia Eh, devi fare la retromarcia praticamente No, no, vedi perché Ecco perché sbaglio Vedi, vedi Ma perché esploda? Eh, perché te l'ho detto Devi entrare in retromarcia Allora, praticamente la macchina la devi posizionare Hai visto quando fai la retromarcia? Entri in retromarcia Da lì praticamente Cioè entri in retromarcia verso di GTA Pro Capito? Se tu entri Se tu entri normale Su quel muro, esplodi Devo andare in retromarcia Mi dovrebbe andare in avanti No, praticamente Allora, la macchina La macchina La metti al posto di così Girala Cioè Il contrario Deve stare Devi fare la retromarcia Praticamente Ecco, bravo Così parti in retromarcia E vai indietro Verso di lì Ecco, così da GTA Pro Così almeno Praticamente la macchina Non ti, non ti, non ti esplode Ma che c'è? Occhio, stanno da fuoco Il cazzo è? Vabbè, vabbè Finché mi va a fuoco così Non ti esploda Vai, vai, continuo a fare retromarcia E non mi fa andare Ah, cazzo Vabbè, che poi esplode Via, via, via Esplode, sai Non ci credo Esploda Vabbè Come cazzo è possibile Oh, ma come cazzo è possibile Sta cosa A me ha forzato Prima colpo Non lo so Ma che cazzo Cioè, lui No, per me È sfiga comunque No, ma Secondo me Che poi lui Che va troppo veloce Perché Io vedo molto piano Altrimenti Eh, appunto Guarda Aspetta Aspetta Proviamo lui Se Vabbè, no Prendi un tuo vigolo personale Prendi questo Eh, qua Eh, qua Dove È qui il tuo vigolo No, ecco la mia madre Sì, sì, sì È la mia madre Allora, proviamo Mettiti lì Guarda Ah, no, stai Qui si deve metter lui qua Guarda Vieni qua Tu vedi Vedi quest'altra parte Allora, aspetta No, vabbè, dai Vi metto io qua Dai, su Tanto uguale Non penso Ok Vedi a me l'esplode Hai vista a me l'esplode Guarda Oh, no Eh, devi venire qui Eh, devi venire lì Altrimenti non funziona Oh, vai là, vai là Entra lì nel cosa Mettiti nell'angolino Ok Ok, vai l'angolino Aspetta che io faccio Oh, ecco, ecco Vedi che non funziona Sta andando Sta andando Ah, mi stanno i soldi Grande, grandissimo Grande Allora io posso andare dove sta GTA Pro Eh, no, se noi sto di spesso Però dopo posso andare dove sta io GTA Pro Eh, sì, ma andate a fare Ma dipende da macchina Andrà molto piano Altrimenti vedi cosa succede dopo Ah, appunto Eh, allora Eh, ma no, ma devi usare Devi usare un tuo tempo personale Oh, si dovrebbe disattivare adesso Ecco Eh, questo non mi dà più i soldi Eh, perché mi so allontanato Capito come Mi voglio mettere io qui ora Ok, dammi l'auto Dammi l'auto Vediamo se Eh, mi devi mettere accesso al veicolo Se no non riesco a entrare Messo Eh, non mi fa entrare Ah, ok, niente, niente Ho fatto entrare, grazie Allora, adesso facciamo Oddio, che cazzo è? Ah, ok Sì, ok, civili Eh, civili, civili Allora, comunque Eh, ti metto l'auto, eh Vai, GTA Pro Vettiti dietro di me Vai, vai Vettiti dietro Vieti dietro di me Vai Mettiti, oh, mettiti Mettiti lì Mettiti lì Dove stava prima GT Pro Vai Eh, ma non funziona Vedi, con la tua auto non funziona Vedi Vedi, che cazzo è? Che cazzo è? Mamma Dovrei prendere l'hutter No, no, no Quella è mia Non funziona Mi sa che ti porti Sono le tue manche Che sono difettose No Oh, comunque Cosa è una cosa così Non è successo Però, minchia Cioè, non riesce a fare Ma con un glitch Cristo Santo Ma veramente Ma che ca**o Queste qua Mi stanno pestando Ma che? Ma dove le vedi? Dove le vedi tu? Che è che stanno pestando? Questa Ma che stai a dire? Ma chi? Signore Signore? Ma dove le vedi le signore? Ma quale signore? Oh, ma non è che Tipo c'è Allucinazioni Strane Non so Ma se non c'è Ma senzionalmente Non vedo nulla Eh, infatti Per me ne se li sta immaginando Forse non riesce a fare il glitch Capito? Quindi cosa Se l'immaginare Che cazzo Mi date un po' di soldi Eh, come facciamo? Ah, se vuoi andiamo ai negozi Facciamo le rapine Pronto Che cazzo di bug? Oh, ma che cazzo fai? Ma che fai Tended? Mi stavi schiacciando con l'auto Sto sopra Ma che stai a dire? Ma io ti vedo sotto Che cazzo Eh, vedi qua Qua, davanti a me Vai, esci Se la posiziono io l'auto Magari Non so se ti da pochi soldi Boh, non lo so Vai, posizionati come al solito Oh, GC Pro Ci lo fai La posiziono qua All'auto Vai, vai Ma che cazzo mi spara? Aspetta Ok, vai Te la posizionata Vai Oh, GC Pro Mettiti dietro di me Come al solito Aspetta, vediamo No, faccio, faccio, faccio Vai Un attimo Oh, mio Che cazzo sta succedendo qui Che cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo sta succedendo Ma che cazzo è? Oh, Dio Ah, no Io me ne vado No, io me ne vado No, Maria No, Maria Ah, no Aspetta No, no Aspetta Igri Il codice Cazzo è normale che non gli funziona Ah, perché non hai il codice? No, glielo devo mandare io Aspetta Oh, mo ti arriva per un messaggio Ti arriva un messaggio E praticamente questo messaggio E devi leggerlo ad alta voce Eh, devi leggerlo ad alta voce No, aspetta Aspetta, no Aspetta Praticamente tu ti devi dire Xbox E poi leggi il messaggio Praticamente si attiva tipo Ehm Il controllo vocale Eh, il controllo vocale Tipo la One Tipo la One Xbox sono stato trollato A posto Adesso Adesso Tipo adesso che cosa dovrebbe fare il gioco? Praticamente ti dovrebbe dare tipo una specie di coso? No, tipo una notifica Come se ti fai sbloccato un obiettivo Eh, infatti Tipo ti dice obiettivo sbloccato Ah, c'è i fuochi d'artificio Dico Cazzo come prezzo fai a averli? Adesso Adesso Oh, ti sei sbloccato l'obiettivo? L'obiettivo trollato Ti sei sbloccato? Eh Oh, ti sei sbloccato l'obiettivo Tented Non è Come? Oh, aspetta Prova di dirlo Prova di dirlo Tipo ti devi dire la notifica Con il tuo obiettivo sbloccato trollato Ah, ma tu ce l'hai il Kinect Tu ce l'hai il Kinect No Eh, vabbè Fox 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 funziona ugualmente Basta che parli con le cuffie Ah, vabbè È vero Sì Vai, ridilo più forte Altrimenti non funziona Non funziona bene Appena vedi il messaggio che Obiettivo sbloccato Trollato Significa che ha funzionato Dillo finché non appare quel messaggio lì Cosa, cosa devo dire? Xbox Xbox Devi dire tipo Xbox Ho visto, ho visto che ci sono un po' parti i soldi Visto che ci sono parti un po' Oh, devi dire Xbox Sono stato trollato Tante volte velocemente Xbox sono stato trollato Oh, hai visto Eh, hai visto un po' di soldi Stanno funzionando Va, vedi funziona Vedi funziona Eh Xbox sono stato trollato Xbox sono stato trollato Uh, sta funzionando il grigio Oh, sta funzionando il grigio xbox sono stato trollato però funziona xbox sono stato trollato funziona un casino xbox sono stato trollato funziona benissimo oh fammelo provare pure a me aspetta xbox sono stato trollato non mi appaio ne so ah eccoli oh funziona oh gta pro pro dire anche tu funziona questa palla è come se fosse un sole infatti la mod si chiama la cosa del sole ok adesso che cosa fate vabbè tu igli tanto gta pro ce l'hai già comunque sia devi spegnere la console però non devi uscire dal cioè devi uscire dal gioco però spegnendo direttamente la console devi stare sempre online spegni la console di colpo e la riaccendi scusa come devo fare allora hai visto il bottone hai visto il bottone dell'xbox quello grosso si eh quello grosso lo premi e spegni la console e poi praticamente lo ripremi e si riaccende allora tanto aspetta ti accetto l'amicizia così almeno ti invito il gruppo ti è scritto devo andare all'ultima pagina dove si è scritto spegni console eh spegni console eh si spegni console e la spegni e dopo la riaccendi mandami un messaggio se ti ha funzionato ciao Grazie per la visione